Musica Mente da Porto Cesario sono venuti qui nel nostro studio centrale per anticiparci un po' che cosa accadrà nel prossimo giugno. In particolare le date sono quelle che vanno dal 13 al 16 di giugno con la data principale, Presidente, che è quella della premiazione. Un premio che non ha tanti anni alle spalle ma che ha già visto dei premiati importanti nel palmarès, così detto. Ad esempio sappiamo di Albano, di Romina Power ed altri, ma vorrei chiederle prima di tutto qual è l'obiettivo dell'alto riconoscimento Virtù e Conoscenza. L'obiettivo è molto semplice. Il Virtù e Conoscenza, come il nome stesso ci fa capire, scaturisce da un passo della Divina Commedia. Dante Alighieri, all'Inferno, lui dice fatti non foste a vivere come bruti ma perseguire virtù e conoscenza. Ecco qua, ritroviamo il titolo. E quindi troviamo il titolo proprio di questa cerimonia di premiazione che va a premiare eccellenze mediterranee. Mediterranea che non significa quindi soltanto salentina, no? Perché qui siamo nella porta del salento di mare, diciamo, da questo lato perlomeno dello Ionio. Significa anche altre specialità. Mediterranea significa premiare queste eccellenze che provengono da tutti i paesi del bacino del Mediterraneo. Ma quando parlo di eccellenze voglio far presente che non c'è eccellenza se questa non viene condivisa con gli altri. Quindi ci vuole anche la generosità. Non soltanto la professionalità va premiata ma la virtù e la conoscenza. Insomma, chi si adopera in qualche modo per gli altri, corretto? È certo. Allora, noi abbiamo anche dei filmati delle scorse edizioni altrettutto molto, molto belli perché voi allestite un palco anche di una bella dimensione lì a Porto Cesario. Vorrei approfittare adesso per coinvolgere anche Anna Peluscio perché nell'ambito delle iniziative che accompagneranno poi la giornata principale, quella della premiazione, ci sarà un convegno che è riferito proprio al Mediterraneo, è vero? Un convegno importante che ha proprio il titolo dove vai nel Mediterraneo. Quindi diciamo che l'oratorio è partner del premio Virtù e Conoscenza e come spiegava prima il professore Arnesano, il premio non riconosce soltanto importanti personaggi illustri che si sono distinti nella loro vita ma si propone anche per promuovere la pace, per promuovere la conoscenza e la sensibilità verso diversità culturali, religiose e anche integrazione interculturali. Quindi l'oratorio subentra in questa grande manifestazione, in questo grande evento, proprio perché si vuole portare ai ragazzi la consapevolezza dell'importanza dei diritti umani. E oggi più che mai forse è importante ribadirlo, no? Quei diritti che vengono appunto riconosciuti alla persona in quanto appartenente al genere umano, diritti che devono essere riconosciuti a prescindere dai luoghi di provenienza, dalle razze e dai generi. Purtroppo amara riflessione, almeno così dovrebbe essere, no? Perché poi vediamo che cosa sta accadendo non troppo lontano da noi. Nell'ambito di una completezza proprio di questa organizzazione c'è anche lo sport. E che sport? Perché parliamo della Federazione Italiana Triathlon e con Olsi Paia, che è tecnico della Fitri, mi piacerebbe anche capire che cosa accadrà, perché ho sentito parlare di Aquathlon nella giornata finale. Esatto, esattamente. Noi abbiamo appunto con il professor Nesano inserito lo sport e nello specifico l'Aquathlon, che prevede una frazione, sono tre frazioni che prevedono una di corsa, una di nuoto e una finale di corsa. In questo, ovviamente, in questa location che è scenografica ma è ricca di storia, di cultura, stiamo inserendo una delle gare veramente che danno lustro sia allo sport ma anche al territorio, perché gli atleti si sfideranno in una prova abbastanza ardua dove... E' un contesto bellissimo. Guardate queste immagini col drone dall'alto, facciamola vedere, regia. Bellissimo questo angolo della nostra Puglia, uno tra i più belli, mi viene da dire, guardate un po'. Esatto, esatto. Queste saranno proprio le coste che noi percorreremo con la frazione di corsa e ovviamente ci sarà questa immersione in mare molto scenografica e non ti nego che l'aspetto sportivo sta prendendo questo... cioè sta prendendo molto un... diciamo... Un aspetto anche importante, no? Esatto, esatto. Quindi io da tecnico Fitri sono veramente entusiasta di portare questa disciplina su... Anche perché sono meno conosciute forse rispetto a quelle più blasonate ancora, nonostante il grande lavoro che si stia facendo, però anche questi aspetti contribuiscono. Presidente, ma quest'anno tornate nella piazza centrale? Sì, in piazza Enrico Berlinguer che è veramente una scenografia unica con dei tramonti, credo che tu già Marco li conosca perché sei frequentatore di Porto Cesario e invitiamo naturalmente non soltanto l'associazione mediterraneamente ma l'amministrazione comunale di Porto Cesario perché se non c'è l'amministrazione comunale è coinvolta direttamente, no? È coinvolta direttamente, cioè il tutto viene svolto d'intesa proprio con il sindaco e gli amministratori di Porto Cesario. Presidente, mi tolgo una curiosità, ho visto anche il logo del Museo Marta di Tanto, il Museo Archeologico Nazionale, come mai? Il Marta è partner dell'evento perché il simbolo di chi riceve questo premio è quello, è una statuetta, una statuetta cui originale è proprio custodito ed esposta nel Marta, nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il tutto avvenne con la ex direttrice Eva degli Innocenti, la quale colse subito l'attenzione per promuovere anche questa statuetta perché rappresenta una divinità egizia, il dio egizio della scienza e della sapienza e della scrittura. Insomma, nulla è stato deciso per caso. Qui vediamo anche Don Antonio Coluccia, poi io ne citerò alcuni perché elencarli tutti sarebbe impossibile. Ho visto ad esempio tra i personaggi più noti della politica Adriana Polibortone, già sindaco di Lecce, ho visto l'attuale ministro Raffaele Fitto e tanti altri. Ecco, volevo chiederle Presidente, abbiamo parlato approfonditamente, grazie anche ai nostri ospiti qui in studio, dell'attività convegnistica e di quella sportiva, ma non solo, perché so che nelle scorse edizioni ci sono state anche delle escursioni legate al premio. Quest'anno cosa prevede il programma? Sì, in particolare quest'anno c'è qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti, che è un festival abbinato al virtù e conoscenza, un festival internazionale e della canzone, il Sassine Festival, International Song Contest. Sono state già fatte le prime selezioni online, il 20 aprile faremo le audizioni dal vivo a Porto Cesario. Sono stati selezionati artisti che provengono da più parti d'Italia, dalla Sardegna, Sicilia, Calabria, Lombardia, Campania, Lazio, ma anche dall'estero. I primi quattro che saranno selezionati si esibiranno durante la cerimonia di premiazione. Ci sarà un vincitore assoluto, il quale oltre a ricevere la statuetta del Diotot, vincerà anche una produzione discografica che viene offerta da una delle case discografiche più importanti d'Italia, che è Auditoria Records, che si trova a Como. Insomma, anche una bella occasione per far sì che qualcuno che mastichi musica, magari anche le prime armi, possa avere uno sbocco, un trampolino di lancio. Torno da Anna Peluso. Perché avete deciso di credere in questo progetto e di contribuire anche? Sicuramente siamo partiti dall'importanza di far nascere prima l'oratorio, che a nostro avviso rappresenta un dono alla comunità. L'oratorio è stato voluto fortemente dal nostro parroco, che ha messo a disposizione il salone parrocchiale, e che noi consideriamo un punto valido, un punto di riferimento per i ragazzi all'interno del quale possono aggregarsi. Sono aggregatori sociali, che distolgono anche magari da altro. Assolutamente. Quindi lo scopo principale è anche quello, dove possono stabilire delle relazioni a livello umano, condividere tanto e soprattutto crescere e formarsi in maniera sana. Quindi quello di credere in questo evento così importante, che vi invito a venire e a presidiare, ed essere tra le file, le fila di questo importante evento durante la serata e durante anche il convegno, che si terrà il giorno dopo, è proprio per far acquisire la consapevolezza di quanto sia importante questo scambio di conoscenze, di cultura, di religioni, che possono veramente far maturare i ragazzi e formare in maniera particolare. Insomma, non soltanto un riconoscimento fine in qualche modo a se stesso, ma che vuole essere qualcosa di più, anche un momento di riflessione, di approfondimento. Torno da Olsi, Paglia, Federazione Italiana Triathlon, come dicevamo, anche qui le chiedono, il contributo, la collaborazione non è mai scontata, che si sottrae del tempo magari ad altro, specificamente per un progetto come questo. Perché? Noi crediamo ovviamente che lo sport si faccia da vettore per i valori sani che a giorno d'oggi servono ai ragazzi. Noi notiamo che appunto lo sport non è semplicemente l'aspetto tecnico, acquisire gli schemi motori, ma anche trasmettere i valori e quindi la disciplina, l'educazione. Lo sport è fondamentale nella società odierna, soprattutto per chi allontana i ragazzi da ovviamente... Possibili devianze e deviazioni, che purtroppo sembrano cose strane, come dire, lontane da noi, ma non è così. Si comincia per scherzo, immagino, con un po', lasciatemi passare il termine, non c'entra nulla con voi, però ne approfittiamo per parlarne. con la cannabis, un tiro, così quella, poi però non si sa come si va a finire purtroppo, perché questi ragazzi se non guidati per bene possono rischiare di finire in una parte di quel mondo marcio che non ci piace. Invece lo sport contribuisce. Aggiungo una cosa, ne abbiamo parlato anche nel secondo blocco di questa puntata di oggi, con la Queiro Chilovir, un'associazione tarantina sportiva, che fa box da 54 anni anche con questo fine sociale. Allora, io vorrei andare, prima di concludere l'argomento e anche la puntata di oggi, dal presidente Cosimo Damiano Arnesano, aspettative per questa ottava edizione, e poi le chiedo di rivolgere anche alla nostra telecamera un invito a chi ci ascolta, perché ne vale veramente la pena. Tante attività collaterali, si può testare questa attività sportiva, si può dedicare un momento di riflessione e approfondimento con il convegno, e non solo. Ma poi soprattutto anche nella serata di premiazione ci sarà musica e modo di conoscere anche dei personaggi che si sono distinti per virtute e canoscenza. E canoscenza. E conoscenza. Certo. Allora, intanto invito chi ci sta ascoltando a venire a Porto Cesario. Porto Cesario ormai è una meta turistica conosciuta grazie alle televisioni, alle radio e ai diversi social in tutto il mondo. Ormai si vende da sola, diciamo, la verità. Si vende da sola, ma c'è bisogno anche di puntare sulla così tanto proclamata destagionalizzazione. E per questo questo festival non si tiene nei mesi di luglio e di agosto. Anche perché non si potrebbe forse camminare in quella piantetta, no? Per la quantità di turisti, grazie a Dio che ci sono. Sicuramente, ma nella metà di giugno. Quindi apre, diciamo, la stagione estiva. Un po' ad anticipare, no? Magari qualcuno arriva prima per il premio e poi ci resta a Porto Cesario. E certo. Sicuramente verranno da più parti, non soltanto d'Italia, ma come dicevo in precedenza, anche da paesi esteri. Io vorrei ringraziare tutti i partner, che sono tanti. Non oso enunciarli perché rischierei di dimenticarne qualcuno, ma in particolare voglio ringraziare l'Istituto Bachelet di Copertino, il quale ha creduto a questo evento già dalla prima edizione, curandone tutta la parte grafica. Avendo l'indirizzo grafico, sono gli studenti, come si diceva in precedenza, e giovani. E hanno anche realizzato il manifesto? Anche il manifesto, il simbolo, è stato fatto tutto dai ragazzi dell'Istituto Bachelet, naturalmente coadiuvati dai loro insegnanti. E allora, grazie ai nostri ospiti, ringrazio Cosimo Damiano Arnesano, presidente del premio, ma anche Anna Peluso, dell'oratorio di Porto Cesario, Olsipaia, tecnico della Filtri. Grazie per essere stati qui con noi questa mattina, ci rivediamo a giugno, volendo anche prima, se avete qualche novità interessante da portarci qui alla conoscenza dei telespettatori, con l'associazione Meditaraneamente, giusto? Sì, bellissimo. Sappiate che le nostre porte sono aperte. È tutto, anche per oggi, sarebbe stato piacevole continuare, ma il tempo è finito, almeno per il momento. Noi ci rivediamo, come sempre, domani a partire dalle 9.30. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.